dopo tanti mesi che non pescavo più mi è tornata la voglia e quindi oggi faccio la mia apertura con un mesetto di ritardo che bello essere di noi arriva un fiume dopo tanti mesi sono stato lontano per motivi personali ma adesso tornerò a far video anche perché inizia la bella stagione infatti l'accogging d'ora è perfetta inizio pescare con martin da 12 grammi poi c'è una corrente abbastanza forte centro e mi serve andare lontano vediamo un po perfetto no 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 mamma la carossa mi è venuta lì così è andata lì fino a riva non ha mangiato oooohh Eccola, la prima trotta dell'anno, al centocinquantesimo lancio. Una bella fario. Una bella fariotta. Oh ma che bella. Dai, fatti vedo lo secondo che poi ti rilascio. Ah che belle le trotte della Dora. Eccola qua, la prima trotta dell'anno. Niente male. Che bella. Eccola. Eccola. Oh oh Eccola Eccola la seconda trota dell'anno Che bella Fario Simile all'altra Più nella stessa misura Oh Fatti vedere e ti rilascio subito Che bella Bella misura Ma Hai pure piccolata Beh come apertura Posso accontentarmi